Sul fronte vaccinale nessuno sarà lasciato indietro, neppure i soggetti allergici. Le rassicurazioni arrivano direttamente dal dottor Rossano Di Luzio, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Cure Territoriali della Asla di Pescara, interpellato dal Tg8 dopo le segnalazioni giunte alla nostra redazione da alcuni telespettatori che hanno sollevato il caso della somministrazione del vaccino anti-Covid a soggetti intolleranti o ipersensibili a contatto con particolari sostanze. Dottor Di Luzio, le persone allergiche possono vaccinarsi? Sì, non c'è nessuna controindicazione per le persone allergiche. Durante l'anamnesi che fanno agli hub vaccinali il medico verifica la gravità dell'allergia ed eventualmente rimanda la vaccinazione in un ambiente protetto. E quindi chi vuole comunque vaccinarsi deve farlo prenotando attraverso i soliti canali, quelli canonici? Assolutamente sì, è poi al momento della vaccinazione che si valuta la gravità dell'allergia ed eventualmente rimandare il paziente a una vaccinazione successiva con le precauzioni dell'allergia. Di solito i soggetti particolarmente allergici, che sono quelli che hanno manifestato delle situazioni di allergia gravi con problemi cardiocircolatori o respiratori ma di grave entità, vengono rimandati a una vaccinazione in ambiente protetto che si effettua verso la rianimazione. A questo scopo abbiamo istituzionalizzato un servizio che è costituito dalla dottoressa Graziella Soldato, dalla dottoressa Caterina Colangelo e dal servizio di rianimazione. Oggi più o meno siamo tutti allergici a qualcosa, questo è anche il periodo dei pollini, le polveri e quindi insomma ci sono persone che fanno anche uso di antistaminici per limitare i fastidi. Ma quando si parla di soggetti allergici, quindi dei casi che lei sta menzionando, di tutto questo iter così particolarizzato, di chi si parla realmente? No, questi soggetti con questo tipo di allergia, pollini o allergie alimentari o anche allergie a qualche tipo di farmaco, non sono soggetti allergici che devono eseguire la vaccinazione in ambiente protetto. Parliamo prevalentemente di quei soggetti che conoscendo la loro gravità di allergia, ad esempio vanno in giro con le siringhe di adrenalina, con delle fiale predosate di adrenalina. Questi sono i soggetti che devono fare la vaccinazione in ambiente protetto, tutti gli altri no. Avete dei numeri come Asla di Pescara? Sì, abbiamo rimandato temporaneamente la vaccinazione a circa 600 soggetti, di questi 600 soggetti già 130 sono stati ricontrollati e di questi 130 all'incirca 80 hanno fatto la vaccinazione in ambiente protetto. Bisognerà aspettare qualche giorno in più, una volta è slitta di una settimana la vaccinazione, ma lo facciamo per la sicurezza del paziente.